E' stata consegnata all'Associazione di Volontariato Gela Famiglia la merce sequestrata ultimamente dal locale comando della Guardia di Finanza nell'ambito di alcune operazioni anti-contraffazione eseguite in città. Si tratta di 42 paia di scarpe e di 18 paia di pantaloni che rappresentano la prima parte di diverse donazioni che a breve verranno effettuate e che permetteranno di dare una nuova vita alla merce giacente nei depositi della Guardia di Finanza e presso l'ufficio reperti della Procura. Comandante, in pieno clima natalizio arriva un pacco dono per Gela Famiglia un'associazione che assiste tantissime famiglie e grazie al vostro lavoro oggi potete far sorridere un po' di famiglie. E' un onore poter dare nuova vita a questa merce che era merce contraffatta e che tramite un lavoro certosino messo in atto dai miei ragazzi, dai Baschi Verdi sono riusciti a epurare dai marchi che avrebbero reso la merce non cedibile. Adesso ci troviamo a fare questo regalo che sotto Natale effettivamente può sembrare un pacco dono, però è un'attività che va avanti tutto l'anno. Siamo felici di poter aiutare una città che comunque è in difficoltà e che ha bisogno anche di questi gesti per far capire che le istituzioni sono vicine. Ricordiamo che voi vi occupate ovviamente di reati continuamente e qualora il marchio non potesse essere rimovibile dall'oggetto deve essere distrutto. Sì, siamo costretti a distruggere l'indumento, la scarpa, la cinta, quello che insomma riporta l'effigie che andrebbe poi a colpire il marchio originale. Dobbiamo comunque tutelare la legalità, ma quando è possibile fare uno strappo legale alla regola e quindi andare a rimuovere questo marchio siamo ben felici di poterlo fare e di poter donare questa merce. Questa merce sarebbe stata destinata al magero, grazie a questa iniziativa invece ne potranno soffrire, come ha detto bene lei, tantissime persone. Un paio di scarpe è come quando uno ha le scarpe rotte, da noi vengono persone con le scarpe rotte, siamo in Sicilia, siamo a Gera, non siamo nel terzo mondo. Siccome noi viviamo e sappiamo qual è la realtà vera della famiglia, c'è molto bisogno di solidarietà. Voi seguite già tantissime famiglie, ma ultimamente ci sono nuove fasce di povertà, come i padri separati che devono lasciare la casa, lasciano le ex mogli in casa con i bambini, devono continuare giustamente a mantenerli e loro si ritrovano spesso a vivere per strada. Esatto, questa fascia è la fascia dei ragazzi padri, ma anche le ragazze madri. Cioè molte ragazze vengono da noi perché non sappiamo la loro storia, non si sono sposate, lui non ha riconosciuto il figlio, quindi si trovano solo e c'è solitudine, perché quando c'è problema in famiglia c'è solitudine, c'è tristezza e ricade tutto poi nella società.